Ehi, salve! Per caso oggi hai qualche utensile per me? Mi ripeti qual è il prezzo per gli utensili? Mi sembra 15 tappi al pezzo. Qualche tappo in più fa sempre comodo, vero? Sì, ecco qui. Perfetto! Continua a cercarli, ne abbiamo sempre bisogno. Non so tu, ma io mi sento proprio male quando vedo un bambino malato.